Anso Straub Zarathustra, detta anche Così parlo Zarathustra, è uno dei poemi sinfonici più noti di Richard Strauss, composto nel 1896, come si vince dal titolo, e ispirato all'omonima opera filosofica del tedesco Friedrich Nietzsche, è nota per essere stata utilizzata come colonna sonora del celebre film di Stanley Kubrick, 2001 Odissea nello spazio, film del 1968, e tratto dal romanzo di Arthur Clarke. L'introduzione è la parte dell'opera usata per il film di Kubrick e dovrebbe rappresentare, a seconda delle interpretazioni, la creazione o l'avvento di una nuova era, venendo così ricondotta per il suo aspetto evocativo al motto del superuomo nicciano. In occasione dei 50 anni dall'uscita nelle sale del film 2001 Odissea nello spazio, vi proponiamo il celebre tema della sua colonna sonora. Alzo Straub Zarathustra. Grazie. 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 Grazie.